Mancato pagamento dello stipendio e proclamazione dello stato di agitazione per i lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti ad Albanella. In una nota della Federazione Italiana Lavoratori Ambienti e Servizi a firma del segretario regionale vicario Domenico Merolla, inviata al Comune di Albanella, al Sindaco, al Consorzio Salerno II e al Prefetto, si annuncia la lineatura. Nella missiva si evince che, con grande rammarico, si prende atto del mancato pagamento degli stipendi e della quattordicesima mensilità in favore dei lavoratori impegnati nel cantiere di Albanella, ciò nonostante gli impegni in tal senso assunti nel corso dell'ultima riunione presso il Comune. Pertanto il Sindacato con Merolla annuncia, ancora una volta i lavoratori vittime di beghe tra enti pubblici, è proclamato ad ora sullo stato di legislazione del personale, Comune e Consorzio devono rispettare le famiglie dei lavoratori e perseguire chi lucra sulla pelle dei lavoratori.